signori buongiorno e bentornati sul canale del master kai io sono il master kai il vostro ospite su questo canale nell'ultimo video delle fondamenta del dungeon abbiamo parlato di conflitto narrativo e abbiamo detto che il conflitto è indispensabile perché senza di esso la storia risulterebbe incredibilmente noiosa ora questa affermazione sicuramente corretta però è anche molto riduttiva all'interno della teoria della narrazione difficilmente si si riferisce a una storia come particolarmente appassionante o al contrario particolarmente noiosa ma si parla più propriamente di presenza o assenza di tensione drammatica e proprio la tensione drammatica quello che rende una storia appassionante e noiosa quindi questa settimana andiamo a parlare proprio di questo cos'è la tensione drammatica a cosa serve e come utilizzarla per migliorare le vostre storie voglio subito cominciare chiarendo un punto il conflitto e la tensione sono due concetti collegati tra di loro ma fondamentalmente diversi possiamo dire che la tensione drammatica è la percezione che i giocatori hanno del conflitto questo è il loro punto di collegamento ma è anche quello che li rende separati perché se il conflitto è qualcosa che riguarda i personaggi giocanti la tensione è qualcosa che riguarda direttamente i giocatori un conflitto particolarmente importante per i personaggi potrebbe non essere assolutamente significativo per i giocatori e viceversa qualcosa che per i personaggi non è importante potrebbe diventare di primaria importanza per chi li gioca che il malvagio signore dei leech distrugga il mondo con le sue armate demoniache durante un rituale è un conflitto molto importante per i personaggi giocanti ma magari ai giocatori non interessa affatto magari la quest appena cominciata loro non hanno visto nulla di quel mondo non hanno particolarmente attaccamento a nulla e quindi che il mondo vada avanti o che venga distrutto per loro è indifferente ma al contrario quando il capo delle guardie del villaggio si è vantato di essere l'uomo più forte della regione e ha sfidato il barbaro del gruppo a braccio di ferro che nella vita dei personaggi è un evento totalmente triviale quello diventa un conflitto incredibilmente importante per i giocatori che ci investiranno le loro risorse sia di gioco che di tempo di gioco per cercare di portarlo a termine non consideratelo come se fosse una leggerezza da parte dei giocatori o peggio ancora i giocatori di questo genere non sanno giocare anzi tutt'altro è una cosa che è presente in tutte le forme di arte narrativa probabilmente voi stessi leggendo un romanzo o guardando una serie di telefilm molto spesso eravate più interessati a sapere se il protagonista del telefilm si riusciva a mettere insieme alla ragazza che gli piaceva o se qualche personaggio minore fosse riuscito a ottenere un minimo di successo nella sua storia narrativa e eravate scarsamente interessati a qualunque fosse il conflitto principale all'interno della storia ovviamente il vostro compito come master è fare in modo che la tensione che i giocatori provano sia funzionale al buon esito della quest o della campagna il modo migliore per suscitare tensione nei vostri giocatori è quello di metterli davanti a delle situazioni incerte in cui non possano immediatamente capire quale possa essere l'esito migliore della situazione per loro e come debbano comportarsi probabilmente avete già sentito definire questo tipo di tecnica come suspense molto spesso è proprio per via della suspense che i giocatori sono più interessati a delle vicende minori o magari triviali rispetto che agli archi narrativi più grandi della storia quando voi presentate in quest il signore dei lice che vuole distruggere il mondo per i giocatori è scontato che a un certo punto arriverà una scena in cui loro dovranno combattere contro il signore dei lice e che molto probabilmente vinceranno e salveranno il mondo non c'è una grande tensione sanno già come va a finire la storia loro sono gli avventurieri lui è l'antagonista a un certo punto si combattono e gli avventurieri vincono perché è questo quello che si prevede da una quest di quel tipo probabilmente avranno già visto chissà quanti film letto chissà quanti libri che seguono esattamente questo schema quindi sanno cosa ci si aspetta da loro cosa ci si aspetta l'antagonista e fondamentalmente come si risolverà la storia ma quando il capitano delle guardie si vanta della sua grande forza i giocatori non sanno cosa aspettarsi alla scena è una scena importante è una scena minore avrà delle conseguenze non avrà delle conseguenze ci conviene vincere ci conviene perdere è appunto questa incertezza che rende la cosa più appassionante e per i giocatori rende la scena molto più tesa la tensione legata alla suspense è anche il motivo per cui molti giocatori in realtà molti master sono ossessionati da far lanciare dadi o fare comunque eseguire prove aleatorie anche quando in realtà non ce ne sarebbe affatto bisogno però l'idea che il risultato sia randomico e che in qualche modo possa andare a rendere la storia chissà come chissà come finirà questa cosa rende per loro la cosa molto più tesa e quindi fondamentalmente più interessante da giocare l'altro metodo principale è andare a mettere a rischio qualcosa a cui giocatori sono particolarmente legati o affezionati e non sto parlando di qualcosa a cui personaggi sono per qualche motivo legati sto proprio parlando di qualcosa che interessa ai giocatori di quei personaggi come detto all'inizio del video ai giocatori potrebbe non interessare affatto che il mondo stia per venire distrutto probabilmente intraprenderanno comunque la missione che il master ha proposto per salvare il mondo semplicemente per partecipazionismo l'abbiamo già visto in un altro video ma dato che loro non sono interessati a salvare il mondo per loro quel conflitto avrà pochissima tensione drammatica al contrario se a essere messo in pericolo fosse qualcosa che i giocatori ritengono importante il loro png preferito l'equipaggiamento che hanno dovuto fare un sacco di missioni per conquistarsi magari anche alcuni aspetti sia delle capacità sia proprio della vita dei propri personaggi a quel punto il conflitto diventerebbe per loro molto più personale e questo porterebbe ad aumentare di più la tensione questo ovviamente torna molto utile a voi come master perché potete fare due cose che vi permetteranno di controllare il livello di tensione del gioco e quindi poterlo aumentare per far aumentare a sua volta l'attenzione l'attaccamento che i giocatori hanno per la storia per prima cosa tenete sempre d'occhio durante le partite quello che effettivamente ai vostri giocatori interessa e quello a cui loro sembrano essersi affezionati e quando vi serve aumentare la tensione fate in modo di mettere quello in pericolo se i giocatori sono particolarmente affezionati al png barista della locanda quando il malvagio barone dovrà rapire qualcuno rapirà il barista della locanda che i giocatori reputano un png importante ma al contrario potete anche fare la strategia opposta cioè se voi sapete già che qualcosa del mondo di gioco dell'ambientazione sarà messo in pericolo più avanti nella quest potete fare in modo che i personaggi interagiscano molto con quell'aspetto del gioco in modo che ci si affezionino se sapete che il malvagio barone a un certo punto della quest attaccherà il villaggio fate in modo che prima in quel momento i personaggi abbiano fatto molte missioni in quel villaggio abbiano incontrato molti png di quel villaggio in questo modo sicuramente si sarà creato un legame e quando il villaggio verrà attaccato i giocatori aumenteranno la loro tensione si spaventeranno perché avranno paura di perdere il loro villaggio e di conseguenza sentiranno molto di più il conflitto fate però sempre bene attenzione a non esagerare cercare di aumentare la tensione in maniera esagerata e indiscriminata infatti può portare a delle pessime conseguenze per quanto riguarda la storia se ogni situazione che presentate ha potenziali conseguenze terribili se ogni cosa che piace ai giocatori verrà costantemente messa in pericolo se ogni png sarà lì solo per cercare di fregarli e ogni passo che loro faranno potrebbe condurli alla morte questo non renderà la quest più interessante si limiterà ad ammazzarla e ammettendo che i giocatori non se ne vadano per trovarsi un master migliore avrebbero anche ragione a farlo riuscirete semplicemente a desensibilizzarli e quindi rendere qualsiasi successivo uso di tensione del tutto inutile la tensione drammatica infatti può essere fatta salire ma non può essere mantenuta una volta che ha raggiunto il suo picco durante lo scontro con il boss durante il ritrovamento dell'indizio fondamentale durante il superamento dell'ultima prova quando ha raggiunto il suo vertice deve essere rilasciata e le scene successive devono essere pensate per diminuire la tensione e alleggerire la narrazione detto in maniera molto più semplice la gente si abitua molto rapidamente all'ansia e se ogni scena che introducete è di massima tensione allora nessuna scena è tesa in assoluto le scene tese devono essere solo quelle che sono effettivamente importanti ma poi le altre devono essere meno tese devono far passare l'ansia ai giocatori in modo che quando la tensione tornerà a risalire loro la sentiranno molto di più diciamo che per questo video è tutto mi sa di aver devo sforato i tempi ma questa volta l'argomento meritava come sempre se avete domande dubbio perplessità scrivetemi nei commenti qui sotto e scrivetemi anche se voi utilizzate il metodo dell'attenzione per concentrare l'attenzione dei giocatori e per migliorare la storia se avete trovato altri metodi oltre quelli che ho descritto io che funzionano come sempre se il video vi è piaciuto lasciate un like e condividetelo che aiuta a crescere il canale iscrivetevi e schiacciate la campanella se volete ricevere le notifiche io sono il master kai noi ci vediamo nel prossimo video